5 novembre 2011 mi trovo al mio orto alle 10 lire bene giorno 5 novembre vedi questi sono lamboni che maturano due volte al mese di novembre due sono stati raccolti uno due tre quattro e poi ci sono pure questi altri che devono maturare questa adesso aspetto che cacciano i cipolloni qua sotto e riproduco le altre gli altri lamboni bellissimi sarebbe la parte posteriore buoni i lamboni ignorto l'orto produce ma l'orto per produrre ci vuole impegno costanza passione e soprattutto lavoro a me mi piace lavorare l'orto